non c'entra appena quanto è la porta mmm mamma bravissimo, duro come una bestia bravissimo, bravo ottimo sta in campo ah si ma che roba è ultima shot non può dare così due per uno, che ne ammunisce uno un mostro che sia guarda che è un mostro che ti pone shhh ne roba tu hai scritto tu hai detto i cassetti non 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 non